io tecnologia abbiamo un rapporto io sono prende lo so qualcuno Ecco, telefono Chi è? È Sansa, si legge Pronto? Ok, questo è il magico furgone Furgone dei retro players Se vede Allora, arriva È un gnomo Un gnomo con la bombetta Guarda che bellissimo cappello Oh, spacca, il cappello è bello È chi lo porta Donna di Dio Che sti stronzo, ogni quartà C'è sempre uno Che sbiara E poi rimane alla ferma come ritardato Come in realtà Ma da un Che cazzo è una sciabola Tipo, va bene, trasversale Salve Salve, non neanche me saluti, va bene? Arrivederci Arrivederci a lei Ho neanche un, ciao come stai Molto cordiale, come al solito La signora del macchinino C'è qua c'è il macinato Parecchio macinato Non c'è come il tocco il macinato Stanza, il reddere il macinato Ma ragà, c'avemo 3 chili di macinato Voi che ne pensate? Ma f***e troppo Mano, quanto sei bello Qua c'è pure c'èi Guarda quanto macinato Qua invece c'ho l'abbacchio Oh no Questa è qua, quando le cuoci Si caramella Ma perché anche lì Questa è la cipolla Noi ne perderò l'uso di questa mano Ecco Mamma mia Niente più fab Oddio che puzza C'è GK Marco Guardate con la maglietta di Cinesate Bellissima Potete comprarla anche voi Da qualche parte Poi sta Bruno Ciao Bruno Andrè La Sala Sottile Non iscrivetevi al FANTASMA DELE NEVI Non iscrivetevi al Fantasma delle Nevi No no Qui è la cucina Matti ho la pancanza V faster Matti Cosa speglie sembro tipo ace sventura però è sventura e stiamo andiamo quasi per non si sa dove stiamo quasi per romics bella sanza o chiama sanza pronto chiede stiamo per partiamo per romics che abbiamo manu fantasmino giù sanza lidina un coglione ecco il treno per treno per treno arriva aiuto siamo arrivati senza non ci credono che c'eri c'ero c'ero c'era lui c'era adesso non c'è più però il gradino saluta del nuovo arrivo salve po po che fa toccare baffi S'agrileggio! Così se fanno i video Qua c'è Sir, presentati Francesco E io contro un cazzo Pure lui contro il cazzo Che ne pensi di questa nuova? Penso che mi abbia copiato e lo venuscerò E poi ci ha fatto Smido Oh raga, tranquilli eh Bella Oh Rek Rek sta registrato Ma andate a fare un video Ah ci sta il nostro amico fantasma Magari sanniamo tutti qui sul coso Grazie No vabbè salva tutti Salvi Stiamo andiamo Si è entrato uno sfintere Tu sei alla metà devi far video Devi far video Devi fare video Devi montare video Manu Lo so che domani Non posso Ahahahahah Volete andare in pisellone? Lidia 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 Ah ma io faccio vedere un po' di panorama Tieni via si spicci Oddio Oh Che fai Che cazzo l'ho toccato con dito eh Oh 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 Dai per favore io mi sento puka Ti senti puka? Puka che? Ti sento puka Ti sento puka Pare fattissimo Pertissimo Per quanto è in campo zingari C'è con tutto il rispetto per i zingari Però il fare in campo zingari Quale rispetto? Che poi in teoria si dice campo rom I zingari li hanno morì tutti Ok Ma se ti spiegura il motivo Allora, il zingaro viene, no? I zingaro E fa, oh, dammi i soldi Sai che dici? No Io ammazzo E tu dici, ammazza? E poi che se ne ha? Ti rendi conto che non ha senso sta cosa? Quindi, se tu gli rendi un filo Assurdo, hai so buono Hai so buono Hai so buono Vabbè Guarda che zingaraggio Oddio, ho fatto un 360 o nello Ma cos'è? L'urlo? L'ho fatto un gatto o la cameraman? Non lo so Ma rega, questi qua sono i soldati Quello che sono insomma Per coordinare sempre Insomma Guardate Quello manco riesce a aprire le gambe Guarda Questi diceranno la guerra Questi diceranno la guerra Grazie a tutti